In questo momento Volterscluver Italia sta pensando ai software di nuova generazione, ai software che verranno utilizzati dalle prossime generazioni di professionisti ed imprenditori. Parlando di strategia non possiamo prescindere dal considerare un termine molto in voga in questo momento che è innovazione. Ci siamo presi la briga di andare a cercare sul dizionario la definizione esatta di innovare e quella che mi è piaciuta di più è questa, modificazione per lo più in meglio dello stato di cose esistenti. Allora ci siamo chiesti che cosa può fare Volterscluver Italia per modificare per lo più in meglio lo stato delle cose esistenti. Allora abbiamo deciso di considerare lo scenario all'interno del quale ci stiamo muovendo e ci muoveremo nei prossimi anni. Ed è uno scenario che sta cambiando, sta cambiando velocemente, sta cambiando repentinamente. Ci sono due elementi chiave che stanno emergendo in modo forte. Uno è il cloud computing, l'altro aspetto da considerare sono i nuovi dispositivi. Questi nuovi dispositivi introdotti recentemente sul mercato hanno un fattore comune che li lega è quello di avere delle interfacce di tipo touchable. L'interfacce di tipo touchable significa uno stravolgimento dal punto di vista dell'esperienza utente. Questi dispositivi sono agili, sono leggeri, sono portabili, garantiscono una mobilità che fino a poco tempo fa era impensabile. Per un professionista avere l'opportunità di accedere alle informazioni gestite all'interno del proprio server, all'interno del proprio studio, è un valore inestimabile. Un valore che fino a poco tempo fa non era possibile ottenere o beneficiare. Interfacce di tipo touch significa veramente uno stravolgimento a livello di operatività. molto spesso quando si parla di user experience si confonde il termine user experience con user interface. Noi stiamo considerando non solamente la user interface che è la parte predominante della user experience, ma anche altri aspetti. Ci stiamo chiedendo come poter integrare all'interno del nostro software strumenti sociali come i social media, le community, come poter portare all'interno del nostro prodotto quella che in gergo viene chiamata consumerizzazione dell'IT, ovvero poter garantire alle prossime generazioni di professionisti e di imprenditori di poter ritrovare all'interno del software utilizzato a livello professionale quell'operatività, quell'esperienza utente, quelle features, quelle caratteristiche, quei valori che trovano quotidianamente o che utilizzano quotidianamente a livello personale, a livello ludico, a livello familiare. I nuovi dispositivi consentono di ottenere questa continuità di esperienza dalla mattina fino alla sera. Un altro elemento chiave all'interno di questo nuovo scenario è il cloud computing. Volta Scrover Italia pone molta attenzione a questo aspetto. Il cloud computing non è, riteniamo non essere più una moda, ma è un'esigenza. sempre più spesso sono direttamente i nostri clienti, i nostri commercialisti, le nostre aziende che ci chiedono di potersi disfare del loro server. Disfarsi del loro server significa non avere più spazi dedicati, non avere più tempo da dedicare a manutenzioni hardware, installazioni software, significa non avere più costi. I nostri commercialisti e i nostri imprenditori vogliono ritornare a fare la loro professione o portare avanti il loro business. E così Volta Scrover Italia. Il cloud computing ci consente di creare veramente quell'ecosistema di servizi e di opportunità e di soluzioni all'interno del quale si possono muovere attori diversi. Attori diversi fino a qualche tempo fa dove eravamo abituati ad un utilizzo molto più statico e limitato delle nostre soluzioni. Il software dei commercialisti veniva usato all'interno dello studio, esclusivamente dal titolare dello studio o dalle persone addette alla contabilità delle dichiarazioni. In questi nuovi scenari si aprono delle opportunità. Un aspetto chiave sul quale abbiamo già fatto delle cose, recentemente abbiamo rilasciato sul mercato dei servizi a valore aggiunto riguarda la collaboration, la cooperation tra studio professionale e azienda cliente. Un esempio concreto di quello che stiamo facendo è Webdesk, una soluzione che abbiamo rilasciato recentemente in collaborazione con Microsoft che sfrutta in pieno le caratteristiche del cloud di Microsoft, Microsoft Azure, con l'obiettivo di ricreare appunto questo sistema costituito di servizi di raccolta informazioni, studio azienda cliente oppure di condivisione di documenti e pubblicazione di documenti ma anche di integrazione di servizi a valore aggiunto prodotti da terze parti come potrebbero essere la gestione di extra autoconti bancari, prime note o fatturazione online. Crowd computing significa quindi anche mobilità, poter accedere alle informazioni in qualunque momento, in qualunque luogo e con qualunque dispositivo a disposizione. È stato facile per noi mettere insieme le due cose e con Webdesk quindi garantire la fruibilità del servizio e da parte dell'azienda cliente e della parte del commercialista con strumenti o con device mobili e portatili come tablet, smartphone o Ultrabook, Netbook e Notebook.